Il Paradiso 7, Adelaide nasconde un segreto, Contessa potrebbe avere una grave malattia. La Contessa Adelaide nasconde un segreto nel finale del Paradiso delle Signore 7. Manca sempre meno alle puntate conclusive di questa settima stagione della soap opera che continua a registrare ottimi consensi dal punto di vista Auditel. Con una media di spettatori che arriva a toccare i 2 milioni al giorno. E, in queste settimane, a tenere banco sono le bugie che ruotano intorno al personaggio della Contessa. La quale ben presto si renderà protagonista di un viaggio che desteranno un pochi sospetti e preoccupazioni. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Adelaide si ritroverà scossa da una notizia del tutto inaspettata che la lascerà senza parole. Credevo di essere preparata, invece non riesco nemmeno a ragionare, esclama la Contessa in una scena dell'episodio che andrà in onda il 6 aprile in prima visione assoluta su Rai 1. Capisco Contessa, ma non c'è molto tempo, esclama subito il fidato Italo che esorterà così Adelaide a partire al più presto da sola. Ma cosa sta succedendo nella vita della donna? Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che la donna annuncerà a Marcello di essere in procinto di partire per Lione, dove avrà modo di vedere una sua amica che si trova in fin di vita. Ben presto, però, il giovane Barbieri si renderà conto che questa non è la verità dei fatti. Dato che la donna non ha mai messo piede a Lione. Un vero e proprio giallo legato alle sorti della Contessa, che terrà banco nel corso di questo attessissimo finale della settima stagione in onda su Rai 1. Ad essere certo è solo il fatto che la Contessa sta nascondendo un segreto, la conferma è arrivata sui social da Roberto Farnesi. Il quale ha detto che nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, ci sarà spazio per il giallo legato al segreto della Contessa. Ebbene, a questo punto, non si esclude che la partenza immediata della donna possa in realtà celare dei motivi decisamente gravi e seri. Il sospetto, infatti, è che Adelaide possa aver scoperto di essere malata e quindi nel finale di questa settima stagione del Paradiso delle Signore, potrebbe ritrovarsi costretta a sottoporsi a delle visite mediche all'estero o addirittura ad una operazione urgente. Le bugie raccontate ai suoi cari, compreso Marcello, potrebbero essere legate al fatto che la donna non vorrebbe far preoccupare chi le sta accanto e quindi avrebbe informato solo un suo fidatissimo Italo su quanto le sta accadendo. Grazie. 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 Grazie.